Con Max Tortora, ormai il quarto film, io sono innamorato di Max Tortora, non solo perché è una persona meravigliosa lui, ma perché ha un grande talento e lui non se ne rende conto. Oltretutto è uno spasso stare a set perché, non si capisce nel film, c'erano delle sere che con Vincenzo e Carlo non riuscivano ad andare avanti perché lui, nelle specie di paute che ci sono tra un non c'è anche l'altro, racconta la sua maniera di Paolo Stoppa, Celentano, quindi è un po' burriti i personaggi che lui fa in modo magistrale e coglie proprio con grande ironia la grande umorista qual è questi lati divertentissimi di questi personaggi, quindi Max ormai è una presenza quasi costante nei nostri film e io mi diverto tantissimo a lavorare con lui.